La prolunga comprese intelligenti PNI Smart Home SM3000 è un dispositivo che può essere controllato a distanza attraverso lo smartphone o tramite dei comandi vocali se l'applicazione dedicata a Bryfan, scaricabile gratuitamente da Google Play oppure App Store, viene sincronizzata con Amazon Alexa o Google Home. Le caratteristiche tecniche sono Usa la rete Wi-Fi nella banda 2,4 GHz, tensione di alimentazione 230 V, consumo 15 A, carica massima 2200 W, tre uscite shuko di 230 V, quattro porte USB di 1.0 A, applicazione dedicata, compatibile con Android e iOS, lunghezza cavo 300 cm, protezione in caso di sovraccarico, cortocircuito o sovratensione. Grazie a tutti!